buongiorno ragazzi oggi commenteremo una delle canzoni di Gali che mi mostrerà il mio grande collega tra le canzoni sono selezionate completamente a caso facciamo partire da Spotify e vediamo quali canzoni del nuovo album partono così il nostro caro Lisi può giudicare bravo 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 non normale il testo bravo ci dai un voto da dai tipo 6 6 e mezzo le snofe non son male Così così cio non è proprio vi viene l'emozione non mi intriga anche sentiamo un'altra, solo due canzoni in tutto, sentiamo dell'album, vediamo questo qua non è che lungo a tre metri, questo qui è due minuti e trenta secondi sentiamo Spotify, Spotify ci propone free solo con Marrakesh che marrakesh dai bravi, ma questa è la marrakesh ma questa è la marrakesh ma questa è la marrakesh ma questa è la mafia più bella è la prima o la seconda? no, non è solo dei due e qual è meglio? forse questa, forse non mi intriga tanto anche questa le strofe erano belle forse un pochino meglio questa cioè un millimetro il ritornello ti ricorda le vacanze in Tunisia? beh, per niente al massimo la mafia americana perché tu l'hai vissuta in prima persona no, no, quello no, però l'ho visto questa canzone questa canzone è bello però cioè forse per molti piacerà però per alcuni no come voto meglio questa e darò sette e mezzo vabbè dai, allora cioè non te la riascolteresti ma per niente però se parte non ti dispiace sì cioè se sei lì in macchina per te questa non cambi ma che c'è una volta